Intanto chiedo anche a te se è una manovra da applausi oppure alla fine è una manovra economica diciamo normale come tutte le altre più o meno perché è stato dato un contentino a destra, a sinistra, qualcosa a tutti in modo che anche la maggioranza di governo reggesse, no? Perché a parte Meloni con Fratelli d'Italia, gli altri sono tutti dentro e le questioni più spinose sono state rinviate però o no? Ma è una manovra diversa dalle altre per una ragione semplice che di solito c'è il problema che non si trovano i soldi e quindi si deve come dire litigare su cosa togliere a chi, qui siamo in un contesto inedito in cui per la prima volta ci sono molti più soldi di quelli di cui sostanzialmente abbiamo bisogno tanto che è la prima volta che io mi ricordo che viene annunciato un taglio delle tasse di 12 miliardi senza che ancora si sia neanche ben deciso dove si mettono. Vuol dire che non c'è stato ancora un vero negoziato mentre in passato si trattava anche sul singolo miliardo su poche cifre molto più basse quindi questa è la grande differenza. Poi è chiaro che qual è l'utilità di avere così tanti soldi che appunto si può dare un po' a tutti tenere sostanzialmente tutti buoni il che come dire è una scelta politica non ovvia perché noi stiamo diciamo facendo manovre che il Draghi banchiere centrale direbbe procicliche cioè mentre la crescita ci spinge invece che mettere risorse da parte per i tempi difficili diciamo no ci giochiamo tutto adesso e spingiamo il più possibile sull'acceleratore. Stefano Feltri scusate interrompo solo un secondo perché l'onorevole Tinagli non era d'accordo su? No non mi sembra che sia una manovra con tanti contentini a me sembra una manovra che in realtà mantiene delle linee abbastanza chiare sul sostegno agli investimenti sul sostegno è vero non è prociclica nel senso tradizionale perché questo che noi vediamo è vero che siamo in fase di crescita ma noi stiamo vedendo come ci ricorda sempre Draghi un rimbalzo quindi dobbiamo fare attenzione a creare le condizioni perché questa crescita non venga come dire uccisa in culla ma venga coltivata cercando di mettere le risorse in utilizzi produttivi e allo stesso tempo proteggere quelle situazioni che ancora soffrono la difficoltà non dobbiamo sottovalutare il fatto che ci sono ancora delle realtà in sofferenza e che potranno soffrire nella transizione perché sarà una crescita diversa dal passato